Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video per il vostro carano di Galaxio e benvenuti in questo nuovo episodio su TAPS Totally Accurate Battle Semulator Allora, abbandono le ciance, senza due ultimi ruoli di spiegazione e tutto, iniziamo l'episodio Eravamo rimasti a livello 15, ammazza, già a livello 15, mancano 5 ligrelli e quindi siamo quasi gli scorci, almeno spero Allora, arriviamo rimasti a questo livello qua, eh, miei coglioni, voglio dire come l'ammazza a questi, eh, eh, ho 2500, quindi potrei fare molto a Baldò, molto casino Molto casino, non Baldòria, casino Quindi un bel cancino, cancino direi qua, poi uno qua giù, dopodiché potrei fare un po' di musket Ok, poi un vichingo dietro, qua, e con 420 migli dopo un faccia Con 420, eh, eh, ne potrei mettere due di... ah no, vorrei mettere tre di vichingli, uno qua E uno dopo dietro Non lo so, ma... sta formazione... mi ispira, mi ispira fiducia Bah, proviamo Preso, fuori uno Fuori due? Non è vero Ammazza che mira che c'ha avuto quello Cazzo Oh, attenzione, il vichingo colpisce ancora Ha ucciso la balista Eh, ma quella balista laggiù rompe parecchio il cazzo Infatti vediamo se colpirà Vediamo se colpirà la balista No, il cannone si è girato No, si sta rigirando E colpisce la balista e le uccide Fantastico Ottima formazione Ah, ma ce n'è una laggiù Minchia E io sono quasi... ho finito quasi le truppe Merda Ok 1v1, balista contro cannone Chi vincerà questa sfida penso più la balista Non sono fiducioso Dove cazzo... ma dove è andato? Ma è partito l'omino dal cannone Ma perché? Niente, allora, questo non va bene Allora La catapulta quanto costa? 600 Ok Proviamo a mettere la catapulta a posto di... Oh, grandissimo Eh, mori L'ha fatti fuori tutti? Cazzo Oh Da, ma la catapulta è già andato Porca troia Quelle baliste No, ma pure il cannone è morto Che palle, oh Niente, non ce la fanno L'ho perso di nuovo C'è strano quelle baliste lì In fondo Guarda quella laggiù Cioè, se ne stanno tre Allora, cannoni non vanno bene Quindi direi Ah, cambiamo completamente formazione Allora Catapulta qua Catapulta qua Un'altra qua giù E poi, poi, poi Babbo Natale E, 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 e E con 100 Sì, dammi un faccio Ho usato un arciere E con 40 Ho un lancere Un po' così A buffo Quanto penso che non gliela fa Uh Ok Una è andata De balista Oh Attenzione Oddio 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 Guarda come l'ha stata asportata Guarda la palla dove arriva Pazzè che mira che c'ha Oh Guarda dove è andata a finire la balista E ancora sta sparando Ma non ce la fa laggiù da colpire Uh Perfetto L'hanno colpita Oh Attenzione Forse ce la fa Ce la fa Oddio Yes Perfetto Fantastico Abbiamo vinto Che cazzo sono questi affari Ma, ma sono in aria Sono samurai master In aria E io ho un 1500 E come cazzo li faccio fuori 1500 Eh Vabbè ho un'idea Uno sicuramente Qua E Ninja master E con 300 Facciamo Il vichingo E con 100 Con 100 si dà un faccia Mettiamo uno con lo scudo Sì sì Vediamo cosa succede Ok N'hanno fatti fuori 4 Tosti eh Attenzione Ninja master Ninja master Ce la fa Intanto il vichingo Che Che tanka tutto Ma non ce la fa Il ninja continua Interperito A lanciare A lanciare Come cazzo si chiamano I shuriken Oddio Oddio ce la fa Oddio ce la fa Il ninja master vince Che cazzo è rimasto Che rimasto in vita Oh Che rimasto in vita C'è Sta cosa Ma dovete spiegare Ma perché Si deve Baggare Dietro all'albero Perché Cazzo E mo vabbè Cioè Lo due Andrà avanti Così all'infinito Vabbè va Ho capito Porca troia Allora Questo non va A sto punto Leviamo Quello delle frecce E con 500 Mettiamo a punto Degli arcieri Boh Non è male Come idea Gli arcieri Sono Abbastanza Cazzuti Cioè Perlomeno Come unità È cazzuta Ma quando ce l'ho Io Insieme Oh cazzo Ce la fa invece Se gli arcieri Sono forti Ma perché Ma guarda Siete efficienti Se colpiscono Da soli No Il viking È già Morto Ma dai Non colpire I miei Ninja Di merda Mannaggia La puttana Dio Guarda È forte Ninja È proprio Cazzuto Vai 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 Continua Continua Oh Attenzione È rimasto l'ultimo Almeno Spero Vai Vai Ma basta Buggarsi Su un larbero Porca Troia Guardali Guardali Che camminano Sull'arbero Ma perché No vabbè Regà Non è possibile Io non ci gioco più A sto gioco I bot Si buggano Sempre Davanti Alla Oh aspetta Che si è sbuggato Zitti Zitti Olè Si è sbuggato Che culo Ho vinto solo Per sta cosa Che si è sbuggato Cioè Si è sbuggato Si è torto dall'arbero E mo chi sono questi Che cazzo sono questi Ma chi sono Non ho capito che unità sono Ma sono tipo Gesù Che sono Ah questi Questi qua potrebbero essere molto utili Io direi Dei metterne uno qua E uno qua E con mille No aspetta Qua O troppo Qua Perfetto Poi ninja master Sicuramente E mettiamo il vichingo Sempre la solita formazione Perché tanto ormai È È troppo forte È Potentissima La formazione Che faccio sempre io Cioè Ninja master Vichingo Che tanca tutto A volte anche L'unità dei ninja Che si chiama Wachang Wach Wachang Come cazzo Se vengono Wachang Però Avete capito E Poi Poi Con il resto Che mi Che Vi trovate Mettete quello Che vi pare Insomma La Madonna Perfetto Bravissimo Ma che Sto sti affari Ma Sono unità Stupide Eh sì Sono unità Stupide No Ma è da quelli Sono ninja master Cazzo No 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 Resisti Resisti No Resisti Resisti Non mi dico È rimasto sempre l'ultimo È ancora vivo questo Dopo Gli shuddy che ne c'ha addosso Eh te pare Te pare Che si deve Buggare addosso al muro Io sto episodio Lo chiamerò Bugg No aspetta Devo trovare Un buon titolo Questo episodio Ecco Si è sbaggato Grazie Ma si è rbaggato il mio Oh Ho vinto Che spettacolo Bene bene Ok È la madonna Tutti ninja master So Mmm Devo pensarci bene qua Qui Potrebbero essere utili Questi Uno E due Grazie Modo Eh La catapulta E il vikingo Come al solo Ma andiamo qua indietro Vai Vediamo cosa succede Eh vabbè Niente Non hanno concluso un cazzo Mi sa che servivano più catapulte Uh ha fatto strike Boom Oh strike Attenzione Eh mi sa che non ce la fa Non ce la fa Oh Forse si Attenzione Catapulta Nooo Non lo stavo facendo È morta Quindi questi Fanno cagare Quindi Catapulta Stecca direi qua Tac Bam Vai No Aspettate 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 No il vikingo va messo davanti Perché almeno può tankare subito Anzi che le catapulte vengono distrutte subito E la madonna Eeeh Popopopopom Strike Boom E il vikingo è già morto Perfetto Popopopopo che è quello che volevo vedere Dai catapulta resisti Eh niente Merda No non funziona sta tattica Mi serve un'idea dei ninja Questa Questa è perfetta Qua Vai Perché almeno può ammazzare I primi che Sono davanti E un di Di dietro Eeeh Ci pensano le catapulte E che cazzo Il vikingo non dura niente Nulla non dura Mmm Ne sa che nemmeno così riesco A ammazzare Ne sa proprio di non gli affa Niente 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 Allora Facciamo una cosa molto coatta Samurai Master Popopo di dietro Anzi Mettiamolo popopo davanti Vai Vediamo che combina Un cazzo combina Cioè sta sta Piace solo le pizze Boom Infatti ci ha piaciuto solo le pizze Sono una pippa No allora Le catapulte non vanno bene Nemmeno così Allora Penso di metterci Voglio sperimentare Voglio provare a sperimentare Sicuramente questo Non lo metterò mai Le baliste forse Ecco 400 Eh Eh Forse così potrebbe andare Due baliste Due vikinghi E un samurai master Non è male come idea Pam Fuoco Eh la madonna Eh Sì ma c'hanno la mita al culo Ste baliste Ok no Ha preso qualcuno Da son morti tutti La Samurai e cosi Son morti tutti Ma Pure le baliste Cazzo si è tosto Porca troia E che cazzo Non ho invento Non so che inventarmi Mmm Ne posso mettere Quattro Se non erro Così Così E così Non lo so se funzionerà Credo di no Mmm Penso proprio di no Non ce la fanno Una è andata Un'altra pure E non ce la fanno Un'altra pure No niente No Non va bene Due cannoncini Forse potrebbero essere Un Non bisogna qualcosa Che li distrae Ecco Vada un po' così Due samurai monster E due cannoni Sempre se Duro no Oh Che cazzo Lo stanno Massacrata L'hanno massacrato Dico Non dura un cazzo Lo stamurai monster Oh Oh No niente Del lato poco Mmm Ma c'hai la mira C'hanno la mira Al culo Preso Mmm Oh Attenzione 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 Oh C'hai la mia Cazzo Ce l'ho fatta Bene E' un mugo E' un mugo Questi che mai Mettevo Tutti samurai Master Mmm Con 3000 3000 Ah Con 3000 Lo sto per fare Lo sto per fare Allora uno E con 1000 Con 1000 direi pure Di fare questa bella mattata Tac Quattro unità Contro tutti questi Trump Ninja master Il vichingo E un arciere Stop Per me Per me funziona Per forza Trump Trump toglie un botto Regà Eppure il ninja master Non è che scherza Sì ma non colpire Trump È deficiente È morto già Trump È morto già Trump Do cazzo Ah no Eccolo Trump Ma non ha il fucile Come cazzo Spare Ma che titi È morto Trump È durato un cazzo Trump No Madonna Ninja master Quanto cazzo È forte Oh Siamo ammazzati tutti Non ci credo È fortissimo 4000 Cazzo è sta roba Ah questo dovrebbe essere Questo me lo ricordo Che unità è questa gigante Intendo È il Chicken man Man È questo coso gigante Che tira un sacco di polli Tante galline Allora Con 4000 Direi sicuramente Trump C'è sta tutto E con l'altro 2000 Così Ma sì 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 Mamma mia Attenzione Già l'ha shottati Lo shott Trump che shotta tutti Signori E shotta anche il gigante Forse Attenzione 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 Oh Che ha infilato Il muro Oddio Oddio Che cazzo sta succedendo Stanno cercando Di fare fuori Il gigante Non ce la va Guarda sto muro Buggato Oddio Immortale sto Sto tizio Oh Fantastico Ho vinto il gioco Bene Ce l'ho fatta Bene ragazzi Direi che il gioco E la serie su Taz Si conclude qua Spero vivamente Che vi sia piaciuta E spero vivamente Che gli sviluppatori Porteranno avanti Questo gioco Perché vi ricordo Che è ancora in beta Quindi Alcune unità Non le ho potute Utilizzare Anche perché Costavano tipo Un fottio Quindi spero Ovviamente Che il gioco Vada avanti Lasciate un mi piace Su questo video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti E ci vediamo Nella prossima serie Su qualche gioco Indie O qualche gioco Strano Come questo qua Un saluto da Alexio E Bella